Stiamo tirando un pochino le somme ultimamente, stiamo raccogliendo un po' i frutti di sacrificio negli ultimi due mesi. Siamo partiti con un gruppo nuovo, con l'aiuto di qualche società che ci ha dato in prestito qualche atleta, quindi sicuramente avevamo bisogno di legare il gruppo. Le ragazze sono allenate bene, stiamo finalizzando gli obiettivi che ci siamo prefissati. A breve faremo le finali sia Under 17, Under 19, regionali, che di Coppa di Serie D e devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro in palestra svolto con un gruppo giovanile, quindi questo era l'importante, mettere a disposizione un roster di ragazze dei 15 ai 18 anni che creassero questo gruppo e questa amalgama. Appunto sono arrivati dei risultati straordinari con lo stesso gruppo. Sì, siamo molto contenti di questo, il lavoro questa volta ci ha. Lillo è stato difficile ripartire, però avete ottenuto dei grandi risultati. Sì, abbiamo creato questa allenanza con le nuove ragazze, ci siamo trovate molto bene in palestra, la nostra società ha fatto grandi sacrifici per riportarci in armonia con la realtà perché abbiamo vissuto un periodo molto difficile con il Covid e nonostante questo anche nel periodo di reclusione la nostra società ci è stata vicino con gli elementi in DAD sulle piattaforme digitali, quindi siamo stati molto fortunati e adesso ci stiamo trovando bene con la ripartenza. Stavate di fare così bene? In realtà no, all'inizio eravamo un po' scoraggiate dalla situazione, però adesso siamo partite con il piede giusto e siamo felici di essere tornati in campo nel migliore dei modi.